Il progetto del ponte della pista ciclabile dell'Arzilla è fermo da sei anni ci dicono i componenti del comitato del quartiere vicini alle problematiche della zona. Il progetto che prevede la riqualificazione del tratto di strada che collega la zona mare con altri quartieri limitrofi è stato fatto ma non avviato. In origine il piano prevedeva delle condizioni certe con abbattimento di alberi presenti e allargamento della sezione. A destare preoccupazione dei residenti è la situazione del ponticello ammalorato negli anni che presenta segni evidenti di abbandono come il suolo diventato poco praticabile per la mobilità leggera. Il ponte situato sopra il torrente Arzilla presenta anche dei tratti pericolosi come giunture in ferro a vista ma anche balaustre di maglia larga che non consentono un'adeguata sicurezza per il transito dei più piccoli. Se dobbiamo incentivare la mobilità leggera questo non è il modo di portare avanti una mobilità leggera perché questo ponte è indispensabile per collegare le due parti della pista e come vedete non è nelle condizioni non tanto per la staticità per carità ma proprio per lo stato di degrado in cui si trova. Inoltre non è da sottovalutare anche la usufruibilità da parte dei portatori di handicap perché in questo momento un portatore di handicap usare usufruire di questo di questo ponticello è pressoché impossibile. Una passeggiata di una persona tra virgolette normale è usufruibile ma altre persone bambini e altre persone fanno fatica ad usarlo. Il progetto ci dice il comitato è anche seguito da ASET che da norma avrebbe dovuto finanziare la realizzazione attraverso gli introiti economici dei parcheggi a pagamento. Altra problematica emersa riguarda il torrente che secondo il comitato dovrebbe essere revisionato dal punto di vista idrico per scongiurare che le acque possono essere contaminate. Attualmente il controllo effettuato dall'ARPAM definisce il torrente come corpo idrico a rischio. Un'acqua inquinata perché qui raccoglie tutto, questo è un torrente che nasce da Monbaroccio fino a poco tempo fa ma adesso mi consta che a Santa Maria dell'Arzilla nel comune di Pesaro le acque sono state convogliate prima di scaricare nel torrente al depuratore però ciò non nonostante ancora la qualità delle acque non è consona tant'è che la spiaggia Arzilla e Lido non hanno avuto la bandiera blu. Risposte ufficiali i membri del comitato Arzilla non le hanno ancora ricevute da parte dell'amministrazione per questo rivolgono un appello. L'appello a cui faccio l'amministrazione è che almeno i progetti che sono già nei cassetti e già portati avanti che vengono eseguiti però qualcuno dell'amministrazione deve farsi carico e portavoce affinché questi lavori vengono eseguiti anche a livello regionale se necessario.